Cassebrella, Di, Ottavini, Grizzi, Zanelli, Perini, Marazzi, Gioza, Massimo, Mantelli, Ardesco, il signor Stefano Zilani della terza chieste, Anderini... Palle d'aria di rigore, colpo di testa verso il centro, il tiro, palo e poi c'è il gol del numero 7, Key. Palle d'aria di rigore, cross al centro, Saviozzi da fuori, Saviozzi da fuori. Palle d'aria di rigore, la cosa è ancora il più abbesito, la zanchezza, si gira bene, male, bene avanti, grossi, bello, benissimo! Buongiorno Buongiorno Federatore di crosteso Le ballo Le ballo Balla 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 Balla